Assessore al turismo di Valenza, Alessia Zaio, oggi di fatto il secondo capitolo di un'avventura iniziata con il piccolo Deplian turistico circa un anno fa, Destinazione Valenza. Cosa si aspetta da questo video, Assessore? Sì, quindi noi abbiamo iniziato l'anno scorso con Destinazione Valenza, ma proprio con la nostra guida turistica. Destinazione Valenza era la nostra idea, che abbiamo poi realizzato quest'anno con questo video, quindi conoscere il nostro territorio, per vedere che nel Valenzano ci sono colline molto belle, il nostro port e soprattutto le nostre bellezze della città, quindi il teatro sociale, piuttosto che il Duomo o il nostro piccolo moda, che è un po' il nostro gioiellino della riposizione di una fabbrica anni 50. Ecco, gioielli, quindi dell'oreficeria, ma anche gioielli nascosti che queste iniziative vogliono far scoprire. Noi puntiamo proprio a questo, cioè Valenza, la città dell'oro, ma non solo, cioè venite a Valenza per visitare una piccola fabbrica, un'oreficeria, solo a gustare un piccolo gioiello, ma anche visitare la nostra città e il nostro territorio.